ciao a tutti e benvenuti su tech gaming in questo video vi parlerò di streamlabs obs il miglior software secondo me per lo streaming su twitch mixer facebook youtube eccetera eccetera quindi grazie a questo software gratis quindi potete scaricarlo senza spendere un centesimo tramite il sito web ufficiale che vi riporto nella descrizione di questo video potete streamare sulle piattaforme citate tramite magari il vostro computer o lo smartphone connesso al computer o una console con il dispositivo di acquisizione e così via dicendo come funziona in questo video vi illustrerò tutto quello che c'è da sapere per iniziare a streamare allora una volta che lo avete installato vi troverete di fronte questa schermata qui abbiamo le scene possiamo passare da una scena all'altra ma non ci interessa per ora quindi diciamo concentriamoci su una scena qui abbiamo le fonti le fonti è praticamente da dove si acquisisce quindi dovete inserire voi la fonte dove volete acquisire quindi ad esempio la finestra lo schermo un dispositivo di cattura le immagini il testo insomma ci sono veramente tantissime fonti a sinistra abbiamo le standard quindi quello che vuoi mostrerete al pubblico quindi che ne so le immagini il testo il gioco lo schermo eccetera a destra abbiamo i widget non so se vi è mai capitato di andare su twitch o mixer vedere magari il tizio che streama che fa comparire sullo schermo i follower le donazioni la chat eccetera bene quelli sono widget e possono essere utilizzati tramite appunto questi widget ma li vedremo tra poco quindi ad esempio noi vogliamo streamare il desktop quindi facciamo più selezioniamo cattura schermo aggiungi fonte e qui naturalmente poi dobbiamo dare un nome alla fonte e aggiungerla io già l'ho aggiunta ed eccola qui qui avrete due icone una che blocca il ridimensionamento come vedete una volta che clicco sul lucchetto non posso più ridimensionarlo e l'altra che mostra o nasconde la finestra quindi diciamo se voi avete più fonti potete poi decidere quale nascondere quale mostrare eccetera eccetera adesso non si vede più perché praticamente io uso tre schermi quindi devo poi dirgli nuovamente quale schermo mostrare comunque con questo occhio voi mostrate e nascondete le varie fonti in questo modo non dovete ogni volta toglierle e riaggiungere a destra abbiamo il mixer che praticamente sono i vari volumi quindi il volume del microfono dell'audio del pc della scheda di acquisizione eccetera se sto discorso potete disattivare o attivare l'audio nasconderlo eccetera quindi per iniziare a streamare prima di tutto dovete selezionare la fonte nel modo che vi ho descritto dovete settare i volumi e poi naturalmente la piattaforma quindi andate nelle impostazioni e adesso ci spulciamo insieme le impostazioni allora le cose da sapere sono questa voce vi permette di visualizzare la finestra di conferma all'avvio della trasmissione che cosa significa significa che quando inizierete a streamare comparirà una finestra che vi dirà siete sicuri di voler iniziare diciamo questa finestra è utile anche per dare un titolo alla vostra trasmissione se non volete farlo direttamente su twitch o mixer poi qui ovviamente ci sono altre opzioni che potrebbero tornarvi utili come la possibilità di registrare la trasmissione in simultanea quindi mentre state trasmettendo registrate anche sul vostro pc queste naturalmente sono opzioni da attivare o disattivare a seconda delle vostre esigenze su stream dobbiamo selezionare il servizio ce ne sono diversi e la chiave come vi ho illustrato nel tutorial come passare da twitch a mixer e viceversa che vi invito a vedere quindi qui dovete indicare la piattaforma e la chiave della vostra piattaforma su uscita qui dovete indicare il video bitrate che cambia a seconda della qualità della vostra connessione ad esempio io 30 mega quindi 8 in upload quindi vanno bene 5000 se avete un upload basso non esagerate con il bitrate altrimenti la trasmissione andrà male quindi scatterà ci sarà un calo di qualità eccetera naturalmente maggiore è il bitrate migliore la qualità della trasmissione però naturalmente dovete sempre basarvi sul vostro upload più alto è l'upload più alto automaticamente sarà il video bitrate io ho 8 mega ma ho preferito impostarlo su 5000 per non diciamo esagerare con il bitrate perché poi se ci sono cali di connessione di banda e quant'altro poi la live inizia ad avere problemi in questo modo è sempre stabile poi avete l'encoder se avete un buon hardware io vi consiglio di selezionare l'hardware questo qui c'è anche una nuova opzione che non ho ancora provato però se avete un buon hardware e per buono intendo davvero ottimo selezionate l'hardware altrimenti andate di software l'audio bitrate potete lasciarlo a 160 però naturalmente se avete una buona connessione qui il discorso è sempre lo stesso poi qui potete selezionare dove volete salvare il vostro video registrato e se volete dare priorità alla qualità oppure ridurre il peso a discapito appunto della qualità selezionare il formato eccetera eccetera quindi questa è solo se volete diciamo registrare il video in audio potete configurare le fonti quindi dire al programma da dove provengono gli audio e impostare i canali eccetera eccetera in video abbiamo la risoluzione ora potete impostare la risoluzione che preferite ma io vi consiglio di lasciare 1920x1080 se avete una connessione eccellente e un pc da gaming potete esagerare andare sul 4k però in questo modo diciamo streamerete in 4k automaticamente dovrete aumentare anche il bitrate di prima però solo se avete una connessione eccellente se avete una buona connessione come la mia una 30 mega circa quindi 8 in upload allora vi consiglio di streamare in hd anche se magari nel pc voi giocate in 4k perché magari avete un pc da gaming mi raccomando se avete un pc da gaming assicuratevi di avere un processore una ram una scheda video di nuova generazione per poter giocare in 4k mentre streamate in hd altrimenti diciamo riscontrerete problemi nella diretta o addirittura nel gioco stesso poi abbiamo i tasti di scelta rapida che sono veramente importanti anzi utili perché potete avviare o fermare una trasmissione mentre siete in gioco attivare o disattivare il microfono e compiere una lunga serie di operazioni direttamente con degli appositi tasti vendono poi anche dei kit per twitch mixer composti da tasti che voi premete e potete appunto eseguire queste operazioni altrimenti altrimenti scusate vi affidate alla tastiera su avanzate qui potete impostare il processo quindi dare priorità o meno al processo di streaming o di acquisizione registrazione o così via dicendo e impostare diciamo varie altre opzioni che naturalmente se lasciate di default diciamo è meglio però se volete mettervi a spucciare le varie opzioni potete farlo diciamo non sono impostazioni che incidono sulla trasmissione se le modificate se ci state diciamo a smanettare su quindi diciamo potete lasciarle così se non sapete dove mettere le mani poi abbiamo il game overlay che praticamente mostra appunto diciamo è una funzionalità sperimentale però mostra sul gioco in esecuzione a schermo condiviso diciamo delle hotkey dei settaggi delle impostazioni insomma io se fosse in voi la lascerei disattivata perché comunque è una nuova opzione quindi una nuova funzionalità e potrebbe darvi problemi poi qui potete attivare o meno le notifiche l'aspetto scegliere se volere il tema chiaro il tema scuro eccetera per l'applicazione e va bene così insomma queste sono le impostazioni che dovete settare quindi avete settato il vostro canale avete settato le fonti e adesso potete trasmettere cliccando su go live per i widget quindi come far visualizzare le donazioni gli iscritti eccetera eccetera o come guadagnare dalle donazioni paypal con streamlabs obs vi parlerò in un nuovo video se questo tutorial vi è servito cliccate sul pollice in alto iscrivetevi al canale per supportare tech gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento